Con il numero 28, Martarelli Arianna Italia, 10.947 all'intermedio, tempo finale, 1909. Con il numero 30, Dari Attiberto Italia, 10.807 all'intermedio, sta per chiedere la sua prova che conclude. Con il numero 29, Linda Rossi Italia, chiede il gruppo delle cadetti femminili, 10.654 all'intermedio, vediamo il tempo finale, 18.496, mille tempo, Riccardo Passerotto Italia, numero 23, 9.912 all'intermedio, tempo finale, 10.041 all'intermedio, sta per chiedere la sua prova e conclude. 17.420, via Chiara Italia, Tempo finale, 18.714, momentaneamente il miglior tempo. 9.854 all'intermedio, tempo finale, numero 18, contenti Desirò Italia. Zonetta Erika Italia, che chiude la sua prova, 17.774. 8.90,erenciale, tempo finale, c'è la sua prova, 17. kasuda, e le contasi fashion, 7.ソキャALK Chделi, 边ita, 边ita, Grazie a tutti.